E' una cosa normale, non mi sembra una cosa poi così improbabile Bene così, che cazzo sta succedendo a sta sedia a rotelle, vediamo un po' Mamma mia, comunque che cazzo de' posti, oh Una cosa de' quelle esagerate, raccogli i pezzi di trappole per creare dardi per la balestra agonia V'ho detto tutto, eh Bene, ammazza quanto ci metta a caricare Che è qua? Che ha fatto? E' sudaticcio E' un po' fracico de' meno, ma bene, ok Ce la fai? T'aiuto? Qua la lanterna, non si può guardare, qua la lanterna fracica Bene, ok Dovrei avercela fatta? Sta vicina Che è successo? Niente, non è successo niente Praticamente è ora Bene così, fatemi un attimo rivedere come funziona Funziona così, se spara così ci sta ancora Se potrebbe pure sparare volendo però eviterei Ok, allora, qua spacco un po' tutto Vediamo se ci sta qualcosa de' buono Spaccamo tutto pure qua Via Dai, dammi qualcosa però Ce sta un cazzo E che sfiga, oh mamma mia Ma che è qua? Ok Da qua ci sono arrivato? Mamma mia, guardate che barchetta Che schifezza, mamma mia Una ciofeca Ma qua c'è qualcosa Ah, eccolo qua È tornato il vomito Io voglio il vomito Bene 4.300 addirittura Ammazza Non lo so quello che ce devo fare con tutto sto vomito Però poi se vedrà Sicuramente mi farà rientrare dentro quel bel posticino E dovrò potenziare il personaggio Oh, una bella siringhetta pure Ammazza oggi Proprio De lusso ci sta andando Incredibile Bene così Andiamo avanti Andiamo con calma Perché chissà che cosa c'è Ci aspetta qua Qualcosa de' brutto sicuramente Eccola Io spacco tutto Oh Oh Bene così Ce sta un cazzo Ok Perfetto Vabbè Siamo contenti uguali Che è qua? Vediamo un po' Oh mio dio Mamma mia Oddio il corvaccio Qua ci stanno le munizioni No I cerini Bene Vediamo pure i cerini Che gli devo da' fuoco Ebbè Mi sa tanto De si Mi sa che se non si passa Volete vedere? Guarda eh Sono sicuro che è così Ecco Infatti Bene Ok Allora qua Devo solo che andano avanti eh Speriamo di non trovare trappole Di non trovare cose strane Perché sinceramente Io non ho voglia di imbattere In questi Casini Oh Qua si passa tranquillamente Che è qua? Oddio Ho visto qualcosa Ho visto qualcosa Dovrebbero essere fogli Mamma mia Ma dove cazzo Sono capitato? Oh mio dio Ok vabbè Ok Si è chiuso tutto Merda Questo dice merda Ogni giro Praticamente Questo gioco L'hanno doppiato Ha detto merda 90 volte Ha detto Basta L'hanno pagato Per di merda Una volta A sto poraccio Che l'ha doppiato E hanno dato 5 euro Basta E usano merda Per tutte le partite Ok Vediamo un po' Oh mio dio Mamma mia Che posto Mamma mia Che posto Io andrei Andrei a dare N'esploratina Qua e là Non mi sembra Che per fortuna Ci siano mostriciattoli Ma oh Mai dire mai Eccomi Io entro qua dentro Che c'è sta? Che è là sopra? Oddio Un cadavere Devo da fuoco Ma che ho fatto? Ma che ho fatto? Boh vabbè Piamo la siringa Piamo la siringa Ma dai la siringa Per favore Piena Piena di siringa A posto Bene così Allora Mi prendo il vomito Bene Tutto sto vomito Hanno voluto buttare Gli sviluppatori del gioco Io non ho capito perché Chi avranno fatto vomita Dico io Qua c'è un cadavere appeso Mamma mia Guardate che inquietud Dammo gli fuoco Via Via fuoco Che sta a posto così La cosa inquietante È che Bruciano con secondi Cioè guardate come bruciano Ecco fatto Carbonizzato Perfetto Con cerino Senza poi combustione Cioè Spontanea proprio Bene Ok Qua che cazzo c'è sta Mamma mia Che posto Oddio Oddio vomito Vomito Voglio il vomito Bene 4.900 Ho veramente tanto da potenziare Sicuramente Allora Andiamo avanti Piano piano Quatti Quatti Zitti Zitti Non mi pare che ci sia qualcuno No per fortuna no Allora Entramo qua Dentro Io ci entrerei Sperando che non ci sta niente di grave Perché Qua non si può mai sapere Sicuro ci sta solo a morte Oddio Mamma mia ragazzi Che posto Che posto Qua però devo rompere qualcosa Io rompo tutto Spacco Ha ancora cervello Ha ancora cervello Guardate che roba Incredibile 5.4 Sto carico Sto bene Qua C'è sta qualcosa da prende Non mi sembra Qua C'è un'altra porta Ma da qua ci sarò entrato O no Oddio Ho perso l'orientamento Ho detto tutto Ho perso l'orientamento No Eh no Io sono entrato da là E quindi Qua si entra Andiamo a guardare Dai su Chi si è visto Si è visto A me me ne può fregare De meno Ecco alla Ecco alla È ripartita La specchiera Bene Ma è sparita E io direi Di andare a potenziare Il personaggio Chi si è visto Si è visto Come si faceva Manco mi ricordo Oh Si può fa Non si può fa Io mi ricordo Che si poteva fa Che cazzo Dovevo premere Io non mi ricordo più Comunque vabbè Senti Facciamo una bella cosa Innanzitutto Qua sopra c'è qualcosa da legge Damoci una letta Allora Diario di Sebastian Castellanos Cioè Il protagonista Quello che sto a Comandare io Primo giorno da detective Il mio nuovo partner Il detective Mira Hanson È una bomba Tenace e diretta Una zoccolona Il tipo di donna Che piace a me Ma devo stare attento Oggi mi ha quasi beccato Mentre le guardavo il culo E la madonna Incredibile Ammazza Sta stronzata Ah ecco Si è attivato lo specchio Dopo che ho letto Che gli ha guardato il culo Bene Ecco i bagarozzi Che escono fuori Bene così Io mi avvicino E guardate qua Eccolo qua Vai Dovinate un po' Dove ci ritroviamo A caso È un posto a caso Mai visto prima Che è qua Ah la capoccia Bene Ok No riesco da qua Guarda che faccia Mamma mia Potenza Potenzia Vedendo se potrebbe aumentare Ma 2005 Mi sembra veramente Un furto Mamma mia Vabbè Proviamo con le armi Vediamo un po' Moltiplicatore del danno Più 20% Cadenza di tiro Riduce l'intervallo Fra i colpi Per aumentare La cadenza di tiro Il tempo di ricarica Me ne può fregare De meno Capacità del caricatore Ma che cazzo Ha aumentato prima Allora Il caricatore C'ha 6 Ah no Prima ha aumentato Le munizioni Che si possono portare Il caricatore Ce n'ha 6 Mi sembra un po' Poco Boh Precisione Ma a precisione Solo per 500 punti Si potrebbe pure fa Danno critico Aumenta le probabilità Di uccidere subito Il nemico Con un colpo Alla testa E questo Allora lo faccio Si vai Ok Perfetto Così Poi io direi Devo aumentare La potenza di fuoco Per un danno maggiore Questo è importante Bene così Mo c'ho 400 Aspetta che posso Fa qualcosa Bene così Ok Io andrei su riserva Giusto per vedere Se si può fa qualcosa Allora no Che è qua Questo già l'avevamo fatto Bene Non ci interessa Vediamo qua Barra vitale Durata massima Dello scatto Ammazza quanti soldi Soldi Vogliono il vomito Veramente Danno corpo a corpo Recupero da Siringa Bene Posso far più un cazzo Comunque Basta così Per oggi è andata bene Ok Mi so potenziato E io direi Da riannammene Do stavamo prima Perché mi sembra pure giusto Mo io non mi ricordo Se si passa da qua Oppure se si passa da qua Oppure se si passa da là Ma io direi De passata qua Ma chi se ne frega Dai tanto sicuramente Rifinisco là Oddio Oddio Ho schiacciato per poco tempo E vedete qual è stato il risultato Eccoci qua Vediamo un po' Sono ritornato Do stavo? Mi parete si Mi pare proprio Che era questo il posto Bene Ok Se nel frattempo Accumuliamo un altro po' De vomitello Quindi sappiamo Do poterci venire A potenziare Io esco da qua Forza un po' Mo vite perché Cioè non c'ho tutto il giorno Pa' aprire la porta Pare chissà che cazzo Stai a fa' E mo andiamo de qua Perché qua non ce so sta Qua non ce so stato Ma guarda Che cazzo Ma che cazzo è successo? Oddio Non ce l'ho capito un cazzo Evitare le bombe Acco accia Ti puoi aggirare le bombe Senza farle esplodere Non me ne so accorto Non ho proprio vista la bomba Cioè io sono entrato proprio di letto Mi ha ammazzato in pratica Mortacci loro Esploso tutto poi Oh mamma mia Non ce la faccio più manca a camminare Guardate che roba Ho capito Ma uno come la vede la bomba? Io non l'ho proprio vista Cioè Vabbè Facciamo finta De niente Aprimo il cassettone E qua ci starà il vomito Eh calla Lo sapevo io Mannaggia la miseria A saperlo prima però A saperlo prima Oddio mi sta a recuperare la vita Bene allora Facciamola recuperare Perché sembra poca Ma almeno Vado al minimo sindacale Ok Bene così Allora adesso Qua ci stanno delle munizioni No i fiammiferi Che palle Sti fiammiferi Mamma mia Una cosa Insostenibile Ok Quattro casali Ah ecco qual è la bomba È questa la bomba Allora Che devo fare? Fammi vedere Vediamo un po' Che è qua? Oddio Di sinnescare le bombe Ferma l'indicatore blu Successo rosso fallimento Fermando l'aco Nella zona blu Entra una rotazione Permette di disarmare la trappola Per poi recuperarne i pezzi Io ce provo Io ce provo Io ce provo Mamma mia che culo Pelo 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 Incredibile Vabbè Andiamo avanti Che è qua? Che posto è mai questo? Oddio Mamma mia Che postaccio ragazzi È inguardabile Sto posto Incredibile Guarda qua Le bottiglie si spregano Una zona di embriagoni Qua oh E che è oh? Mamma mia Qua aspetta Aspetta Rompi tutto Rompi tutto Che ce sta qua dentro? Ce ne sta un cazzo Perfetto Come al solito Bene così Andiamo Ma che è qua? Ma dove cazzo sto? Boh Non lo so dove sto Vabbè io apro Io apro E vediamo che succede Dai Oddio Oddio No non spari Che vuoi? Non sono uno di loro Sono un dottore Marcelo Jimenez Oddio ma lui Sì siamo vivi per miracolo Ha visto qualcun altro? Il mio paziente Leslie L'ho visto scappare via Ma 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 Per pazzo Quello che fa Per di qua in silenzio Fammi prima esplorare la zona E cioè Per di qua in silenzio Qua ci stanno cose da fare E Vediamo un po' Allora Qua se può rompere qualcosa Vabbè che non c'è Stare un cazzo Vediamo un po' C'è sta un cazzo Bene Ma che cazzo Ce l'hanno messi a fare Le casse Io questo Io non lo capisco Comunque vabbè Ok Poi Qua c'è sta una porta Qua Qua dentro Qua dentro si può fare qualcosa Che è qua Oh mio dio Mamma mia che posto Che postaccio Comunque Sono capitato proprio in un postaccio Bene Mi sa che non si può fare nient'altro Allora andiamo a parlare col signorino Rompiamo sta cassa Ecco Non si può rompere Va bene Andiamo a parlare con lui Va Dove stai? Che mi racconti? Guardi lei stesso Che cosa? Oddio Oddio Sono dappertutto Stanno dappertutto Si E mo Eh Una parola Ma che è l'ampoliziotto zombie Guarda che cazzo De gente Incredibile Ecco io no Io no Ecco Te pareva Non sono convinto Eh no Non sono convinto No A me non mi fate Fa la distrazione Te lo dico Vabbè Dovamo quello Io mo rompo questa Vediamo un po' Oh c'è qualcosa Ma che è sta roba? Vabbè Ingranaggi Cose strane Per fare le trappole Per fare qua Che cazzo? Ma che L'ho fatto esplodere Con la bomba Eh vabbè Mi dispiace per te Bello mio E mica solo a me Allora Vai che la manovella Che devo fare qua? Mamma mia Guardate che roba Guardate che se sono inventati Incredibile Ok Mo Mo vediamo un po' Do sta sto pazzo Eccolo Beh io Io mi armo De pistola Che fa mo Sto scemo Che fa? Mo me lo voglio Proprio gustare Dov'ha? Sono qui Oddio Ma questo li va a distrarre davvero Ma che se ne ma Sì vabbè Guarda che roba qua Mo se lo fanno Più si farà ammazzare Mi sa tanto di sì eh Se vuoi far proprio ammazzare eh Checkpoint nel frattempo Passato ragazzi miei Ragazzi Per il momento Ci fermiamo qua Se vi è piaciuto il video Mi raccomando Mettete un bel mi piace Commentate Condividete Iscrivetevi al canale Detto questo Non mi resta che Dava appuntamento Alla prossima puntata Del gioco Ve saluto Bella a tutti Regà Ciao Ciao Ciao